Le zucchine alla scapece sono un delizioso contorno fresco ed estivo, una tipica ricetta napoletana, semplice nel procedimento e negli ingredienti, che regala una pietanza molto stuzzicante. Ma da dove deriva il nome scapece? Secondo alcuni, la ricetta potrebbe essere stata ideata da un cuoco dell'antica Roma di nome Marco Gavio Apicio, il misterioso autore del De Recoquinaria e il primo trattato di gastronomia o libro di ricette di cui si abbia notizia. Il termine scapece, infatti, sembra essere una contrazione della formula latina ex Apicio, della vita dell'autore si conosce ben poco, la storia ci offre soltanto qualche frammento, si sa che Apicio era un uomo amante dei banchetti fastosi e delle sperimentazioni culinarie che avrebbero costituito il corpus primario della sua opera, e che visse sotto l'imperatore Tiberio, suicidandosi poco prima della fine del suo regno. Secondo altri, la ricetta potrebbe risalire alla dominazione spagnola, il termine scapece deriverebbe, infatti, dallo spagnolo escabeche, che indica in cucina qualsiasi cosa sia condita con una marinata all'aceto. Dopo questo accenno di storia, veniamo alla nostra lista della spesa per 4 persone. Ingredienti 800 grammi di zucchine 2 spicchi d'aglio 3 cucchiai di aceto bianco Menta fresca Olio extravergine di oliva Sale e pepe quanto basta Preparazione Lavate le zucchine, spuntatele e tagliatele a fette di circa 4 mm. Friggetele in olio d'oliva bollente, poche alla volta, fino a quando saranno dorate, quindi scolatele con un mestolo forato. Trasferitele calde all'interno di un piatto e conditele a mano a mano, con una marinata preparata con olio extravergine di oliva, aceto, sale, pepe, aglio a fettine e foglie di menta. Proseguite in questo modo a strati e lasciatele riposare per un paio d'ore prima di servirle. Ti ringraziamo per averci scelto, e ti ricordiamo di iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie